Su Bike Channel rivivi tutte le emozioni dell'UCI World Cup di Cross Country. Le gare e i momenti salienti dell'etappe 2015, con le immagini più belle e gli snodi che hanno segnato un'intera stagione. UCI World Cup Cross Country, un'esclusiva di Bike Channel. UCI World Cup Cross Country, un'esclusiva di Bike Channel.